Dengue, 14 casi registrati nel Lazio, 2 i ricoveri, le condizioni non sono gravi, non facciamo allarmismo ma cerchiamo di capire. Urge la presenza di un infettivologo, Nicola Petrosillo, del Biocampus di Roma e un entomologo, Gian Umberto Accinelli. Innanzitutto, professor Petrosillo, cos'è la dengue? Dengue è una malattia infettiva che è trasmessa da un virus di una famiglia, i Flavivirus, c'è la febbre gialla, il West Nile, la Zika, e che è trasmessa dalle zanzare di un genere che si chiama Edes. Ed è una infezione importante perché colpisce in tutto il mondo ogni anno 400 milioni di persone, metà della popolazione mondiale vive in zone endemiche con la dengue. E veramente diciamo che chi va in questi posti ha un rischio di contrarre la dengue. Si calcola che tre persone su 100 mila viaggiatori possono prendere la dengue in queste regioni. Allora, Accinelli accennava il professor Petrosillo a un tipo particolare di zanzara, quale? Sì, ha un genere, il genere Edes, che è un genere di zanzare, sono delle zanzare tigrate. Ah, la tigre? La zanzara tigre appunto fa parte del genere Edes, Edes albopictus. Quindi c'è una più mascazzona dell'altra. Esattamente. Qui in Italia solo lei può veicolare la dengue. Tutte le altre invece, le nostrane, non sono innocue da questo punto di vista. Sintomi? La sintomatologia nell'80% dei casi è asintomatica. Quando dà dei sintomi, in genere sono sintomi abbastanza banali. Qualche volta dà febbre, dolore dietro gli occhi, retrobulbare. Dà dei dolori artromialgici, quindi articolazioni muscoli. Qualche volta può dare delle piccole emorragie a livello della mucosa gengivale. queste sono le cose più importanti. Poi uno fa l'analisi del sangue e vede che i globuli bianchi sono giù, sono ridotti, le piastrine sono ridotte. Poi bisogna fare dei test. Ti devi proprio ingegnare però. Bisogna, però uno che torna da un paese dove è endemico. E nelle prime due settimane... Quali sono questi paesi endemici? E ce ne sono tantissimi. Sud America, il 70% dei casi di dengue sono nei paesi asiatici. Quindi sud-est asiatico, tutte quelle zone. Quando uno torna da quelle zone e chi va in quelle zone lo sa perfettamente che ce la dengue, bene, insomma, nelle prime due settimane, se ha febbre, si deve rivolgere al proprio medico. Fatti delle analisi. Bastano le analisi o bisogna fare altri esami? Ci sono delle analisi specifiche. Bisogna andare dagli specialisti, gli infettivologi, dal medico di famiglia che sicuramente lo indirizza all'infettivologo che ha il suo laboratorio. La zanzara tigre, che è l'Apossino, quando è che è arrivata in Italia e da dove? Sì, la zanzara tigre è arrivata nel 1990 a Genova. È originaria del sud-est asiatico, ma la nostra in realtà è arrivata dall'America, che dal sud-est asiatico è nata in America, dall'America è arrivata qui in Italia. E ha avuto un successo straordinario, perché le nostre città sono dei piccoli paradisi per questa zanzara. E per scoraggiarla? Per scoraggiarla dobbiamo fare la lotta, soprattutto alle larve. E dobbiamo togliere quei luoghi dove la zanzara tigre depone le uova e quindi dove vivono le larve. La zanzara tigre depone in piccoli recipienti d'acqua, piccoli residui d'acqua, quindi il sottovaso, l'annaffiatoio, magari lasciato mezzo pieno, la fontanella e ovviamente i tombini. Lì dobbiamo o togliere l'acqua o, nel caso dei tombini, per esempio, trattarli possibilmente con inseticidi biologici. Infettarsi più volte con la dengue è pericoloso? Sì, questo è uno dei punti più importanti, perché la prima infezione ha queste caratteristiche. Il 80% dei casi è asintomatica, il 20% dei sintomi, l'1,5% qualche forma più grave. Ma questo è soprattutto in chi già ha avuto una prima dengue. Ricordiamoci che questo virus non è uno solo, contiene nel suo gruppo, ne contiene ben quattro, l'1, il 2, il 3 e 4, quindi uno si può reinfettare con un altro virus. E poi c'è un meccanismo immunologico, per cui chi ha avuto già una dengue può avere, alcune persone, quelle che hanno le forme gravi, può avere degli anticorpi che si vanno a unire col virus e lo fanno entrare all'interno delle cellule immuni, dove il virus si moltiplica e poi invade l'organismo soprattutto nei piccoli vasi sanguigni determinando quella che è la iperpermeabilizzazione dei vasi sanguigni con perdita di plasma e quindi con uno shock ipovolemico. Il soggetto ha una grave ipotensione e necessita di terapia intensiva e in alcuni rari casi può anche morire. Vaccini? Ecco, il vaccino è molto interessante, a giorni ne esce uno, l'ultimo, che è veramente innovativo, un vaccino a virus a tutti e quattro i ceppi, vivente, attenuati, quindi non dà problemi. Infatti in laboratorio ricombinanti, venne fatto con due dosi a distanza di tre mesi una dall'altra sotto cutanei, effetti collaterali di solo il dolore, ma quello che è importante è che dà un'immunità veramente forte, diciamo che a un anno riduce dell'80% le forme di dengue e nel 95% l'ospedalizzazione per dengue. Chi lo può fare? Beh, diciamo chi fa dei viaggi internazionali. Chi fa dei viaggi internazionali e va in zone di questo genere, io parlo dei lavoratori che vanno all'estero, di chi... Ma si trasmette con uno starnuto? No, non c'è trasmissione interumana, occorre questo vettore che è la zanzara. Com'è la nostra partita continua con le zanzare? Qualche volta le abbiamo sconfitte o no? Sì, qualche volta in Italia le abbiamo sconfitte. Per esempio la zanzara nofele, quella che trasmette la malaria. La zanzara nofele era diffusissima nel nostro paese e uccideva tante persone. E poi con le bonifiche, con gli insetticidi, con il miglioramento in generale igienico, sono scomparse. Nel 1970 la zanzara nofele, o meglio la malaria, è stata dichiarata estinta dal nostro paese. In realtà c'è ancora qualche zanzari nofele che gira nel nostro paese, ma sono in luoghi isolati, senza persone e soprattutto non c'è la malaria. Malaria, dengue e poi quale altre infezioni, Petrosillo? Le zanzare possono trasmettere varie infezioni, la malaria, la dengue, il West Nile per esempio. Il West Nile è la febbre del Nilo occidentale, quella che nella regione Emilia-Romagna è molto diffusa. I serbatoi sono gli uccelli migratori. Le zanzare di un genere particolare, il Culex, le pungono gli uccelli migratori, si prendono questo virus e poi le reinfettano. Sporadicamente possono però colpire anche l'uomo e gli animali e nell'uomo possono dare delle forme molto gravi, delle forme meningoencefalitiche. Poi c'è il famoso Shikungunya, delle meningoencefaliti, delle forme a livello del sistema nervoso centrale, gravissime, anche con morte. Il Shikungunya è invece un altro virus, sempre una famiglia, i Togavirus, che viene trasmesso dalle zanzare, anche qui la zanzara tigre. Abbiamo avuto due epidemie negli ultimi vent'anni in Italia, una in Emilia-Romagna e una nel Lazio e con una piccola parte anche in Calabria. Shikungunya vuol dire febbre delle ossa rotte, perché dà una febbre fortissima con dolori osteoarticolari. Ed è anche questa, viene trasmessa soprattutto a viaggiatori internazionali che poi magari ritornano e poi ci sono le zanzare che la trasmettono. Bene, grazie per averci tranquillizzato. No, scherzo, per averci informato su come... La malaria non c'è più. Diciamo che della dengue noi non dobbiamo avere paura, perché i casi, la maggior parte, sono importati. Quelli che si trasmettono nel nostro paese sono meno del 2% dei casi e lì basta fare una bella bonifica ambientale. L'isolamento fiduciario della persona è importante. Per sette giorni deve stare a casa, non può uscire, perché bisogna evitare che una zanzara lo punga e poi punga un'altra persona. Queste sono una minoranza piccolissima dei casi che però vanno considerati. E lo so, ma quando ti dice male ti mordono anche le pecore, per cui bisogna fare attenzione. Grazie a Petrosillo e grazie a Dacinelli. Cambiamo completamente argomento.